Ciao a tutti, sono qua in questo posto per farvi vedere, sono a Zira, per farvi vedere la nuova app 1.5.0 del DJI Flap per quanto riguarda il volo del Mavic Mini. Vedremo in questo scenario come vola, il tempo non è dei migliori, c'è un po' di vento sui 20 km orari, inizia a piovere tra poco, almeno secondo UAV Forecast, vediamo se funziona o no, ho visto tanti feedback positivi per questa app, per questo nuovo aggiornamento, ora vediamo come sarà in realtà per il Mavic Mini. Ok, adesso accendo il drone e faccio delle prove. The home point has been updated, please check it on the map. Ok. 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 Ecco, adesso vediamo se la bustola gira. funziona la bustola, tutto ok. Adesso sta guardando verso di noi il drone. ricordo questa la mappa, ok. Ok. Funziona abbastanza bene. qualche lag si vede, comunque il video non è fluido nello schermo. sì, qualche lag c'è. altra, ok. Ok. Ok, tutto bene. Ok. 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 da questo lato c'è manuel island si presenta qualche lag questa nuova versione la 1.5.0 la 1.5.0 si proviamo il punto di ritorno la 1.5.0 la 1.5.0 la 1.5.0 la 1.5.0 la 1.5.0 la 1.5.0